Amo è un brand di borse nato a Bologna, sono borse artigianali fatte principalmente in tessuto, sono pezzi limitatissimi dove sopra ci si può ricamare le iniziali, personalizzarle, quello che vogliamo trasmettere e comunque l'unicità dei nostri prodotti, la personalizzazione, perché alla fine la borsa è unica, le donne sono uniche e questo è quello che vogliamo. Grazie per la visione!